Sì, è stata un'altra giornata impegnativa, ho dato il massimo anche oggi perché sapevo che potevo guadagnarmi questa maglia e è andata bene, anche oggi sono stato fortunato a centrare la fuga e ho portato a casa i traguardi volanti e siamo tutti contenti. Guarda, io sono uno che guarda giorno per giorno, adesso penso a recuperare e stasera con Zanatta e Roberto guarderemo il percorso di domani vediamo come saranno le gambe perché tre giorni di fila in fuga si faranno sentire però insomma non ci arrendiamo. Sì, oggi non è stata più che altro cercata insieme però sapevo che Ballerini e Alan Maragone avrebbero provato quindi quando ho visto che sono partiti li ho seguiti subito e dopo siamo andati d'amore e d'accordo fino alla fine.